Dopo troppi anni di governo ormai le scuse che ha portato all'attenzione dei cittadini pavesi cominciano ad essere troppe. L'ultima è la mancanza di fondi per il contrasto agli animali che provocano danni all'agricoltura. Nel momento in cui gli agricoltori si sono lamentati di questa problematica Bosone ancora una volta ha detto che Renzi ha tagliato i fondi alle province e di conseguenza non può aiutare gli agricoltori. E tutte le volte è questo problema. Ha iniziato dicendo che portava il tempo pieno nelle scuole superiori perché bisognava fare dei risparmi ai consumi del riscaldamento nelle scuole. Poi ha addotto i tagli ai trasporti dicendo che Maroni era cattivo ma sappiamo benissimo tutti che i tagli ai trasporti arrivano perché il governo Renzi li ha tagliati. Ha portato all'attenzione dei cittadini pavesi il rilancio del turismo nella nostra provincia e a oggi visto che non ha fondi la provincia di Pavia i turisti che arrivano in provincia di Pavia sono meno rispetto agli altri anni nonostante Expo per non parlare delle strade. Le strade in provincia di Pavia sono un collo a brodo lo stanno dicendo tutti, lo stanno dicendo i sindaci, sappiamo tutti che la colpa è della provincia che non fa manutenzione alle strade. La soluzione che ha portato Bosone qual è stata? Una raccolta firme tra i sindaci della nostra provincia per chiedere a Renzi di sbloccare il patto di stabilità. Questo è un presidente che fa il suo dovere o è un presidente che tutte le volte si erge a capopopolo per portare avanti quelle che sono le inefficienze sue come presidente della provincia e quelle di un governo che ha deciso di ammazzare le province in Italia? Noi pensiamo che il presidente Bosone abbia fatto il suo tempo, che non serva ai cittadini pavesi, pagare lo stipendio a un presidente che ha come uno scopo quello di fare raccolte firme e di conseguenza se Bosone non è in grado o non può governare dopo aver chiesto aiuto a Renzi e l'aiuto non è arrivato, noi pensiamo che il compito di Bosone sia quello di avere un ultimo atto di dignità verso i cittadini pavesi e verso chi l'ha eletto, cioè quello di dimettersi. Si dimetta, torna a fare il suo lavoro e i cittadini pavesi avranno la possibilità di tutta la provincia di Pavia avranno la possibilità almeno di risparmiare quello che è lo stipendio del presidente della provincia.